Il progetto di ASAMS è un progetto molto interessante rispetto ai contenuti molto innovativi è un progetto ben organizzato e anche molto piacevole in quanto avuto modo di interagire con quasi tutti i partecipanti del gruppo e li trovo veramente molto simpatici. Il mio desiderio più grande rispetto a questo progetto è di poter far tesoro dei contenuti appresi ma di far tesoro non in maniera autoreferenziale per poter arricchire il mio bagaglio ma al contrario il mio desiderio è quello di poter estendere queste acquisizioni a tutte le persone che io incontrerò durante il mio percorso di vita personale, il mio percorso di vita professionale e quindi di veramente fare condivisione di quanto appreso. Un aspetto che mi ha particolarmente colpito di questo percorso è quello relativo alla comunicazione e in particolar modo all'importanza di uscire fuori dagli schemi e di guardare la realtà da un'angolazione diversa, un aspetto che molto spesso noi diamo per scontato ma che in realtà spesso diciamo lo dimentichiamo e dunque l'importanza di sapersi anche sorprendere delle cose, di non dare nulla mai per scontato. Sono molto contenta come ho detto prima e estimo la mia profonda gratitudine rispetto a questa opportunità che mi è stata offerta e mi auguro che sia un inizio, una parentesi che non si chiuda ma che una parentesi che rimanca aperta. Grazie. Grazie.